ben tornati sul canale come avrete capito dall'intro oggi torniamo a parlare dei prodotti della Moero e nello specifico del nuovo Card Order 3.0 personalizzato infatti una novità uscita in queste settimane la possibilità appunto di personalizzare anche il Card Order quindi il portacarte con un'immagine può essere un'immagine fotografica grazie ad un nuovo procedimento quindi una nuova stampante laser che permette di stampare anche le foto sul Card Order e quindi ho deciso anch'io di personalizzare un Card Order per aggiornare il mio Moero lo soffiano black eccolo qui il primo Moero che ho portato sul canale se vi ricordate quindi questa è la versione diciamo classica senza zip con il Card Order vecchio tipo quindi ho deciso di personalizzarlo di metterlo all'interno di questo portafoglio per modernizzarlo un po' quindi per aggiornarlo per acquistare il prodotto basta andare sul sito selezionare il Card Order 3.0 come vedete ci sono varie colorazioni potete scegliere insomma quella che preferite che magari si abita meglio al vostro portafoglio e una volta acquistato potete inviare un'email vi lascio qui in descrizione l'indirizzo con all'interno il file che volete sia stampato quindi deve essere un file in formato jpeg quindi può essere una foto può essere un logo può essere una scritta insomma potete scegliere quello che volete e all'interno dell'email normalmente inserite il numero d'ordine del vostro Card Order Moero provvederà quindi poi a personalizzare il vostro articolo andiamo a vedere quello che ho acquistato sicuramente se mi seguite su Instagram ma anche dall'introduzione l'avete visto quindi ho preso un Card Order di colore giallo ecco qui ringraziamenti che ci fa sempre la Moero ed ecco qui il Card Order in versione gialla adesso lo metto un po' a vedere com'è venuto bello con il QR code del mio canale poi adesso facciamo anche un test per vedere se funziona bene non vi sto a parlare del Card Order 3.0 conoscete pulsantino in alluminio forellino per lo sblocco delle carte nuovo tipo di verniciatura, sistema brevettato per quanto riguarda l'espulsione delle carte insomma lo conosciamo molto bene andiamo a vedere invece come si va ad applicare a un portafoglio già esistente come vedete qui dietro c'è un adesivo tesa che servirà proprio a sostituire quello che già abbiamo nel portafoglio adesso andiamo a fare sul mio Safiano Black Classic il primo vi ricordo che ho portato qui sul canale e andiamo a vedere come si fa come vedete il portabanconote in ABS è incollato al nostro Card Order vedete infatti adesso noi forziamo un pochino sto proprio scollando il Card Order eccolo qui perfetto vedete ho tolto il Card Order e quindi siamo pronti a mettere quello nuovo quindi andiamo a togliere l'adesivo tesa eccolo qui vedete si va a spericolare qui dietro c'è un adesivo resistente e andiamo a posizionarlo cercando di essere il più precisi possibili spero di esserlo stato sì ok come avete visto l'operazione è stata rapidissima ho già finito ci vogliono pochissimi secondi e guardate com'è bello il nuovo Card Order oro diciamo giallo gold abbinato al mio Safiano Black Classic vi ricordo classic perché non ha la zip ma adesso andiamo a vedere se il Card Order è diventato ancora più smart grazie all'immagine che ho fatto stampare si tratta appunto di un QR code personalizzato andiamo a vedere cosa succede se lo andiamo a fotografare ok consenti sempre vediamo cosa appare e ecco qui il mio canale se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale quindi cliccando su iscriviti mettendo la campanella e se vi fa piacere anche un like ed un commento ok il video di oggi finisce qui un video molto veloce ma per far vedere com'è semplice cambiare appunto il portacarte 3.0 sul vostro muero e noi ci vediamo in un prossimo appuntamento sempre qui sul mio canale un saluto e un abbraccio da Stefano ah naturalmente è sempre fantastico ringrazi 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 ringrazi